Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Swissgame e oggi voglio configurare con voi il router Swisscom facciamo subito, allora apriamo l'altro browser scrivete nella casella il seguente indirizzo 192.168.1.1 e magicamente vi comparirà questa finestra qua se avete la password la scrivete qua, come faccio io così, ok, siete messe da parte, non mi interessa, grazie scrivete la password se non l'avete fate qua imposta una nuova password e magicamente sullo schermo del vostro router comparirà la password da digitare, fate login ed ecco quella rete, mettete in modalità esperta poi fate la rete andate nella tab in oltre porte e come potete vedere qua potete inoltrare tutte le porte che vorrete per esempio potete fare aggiungi regola lasciate sempre questo come qua ovvero tcp-udp, selezionate per esempio la porta, nel mio caso l'80 è già occupata dal server facebook, qua scegliete il vostro dispositivo se non c'è potete mettere altro dispositivo puttato dentro l'indirizzo IP magicamente potrete fare il forwarding delle porte invece per trasformare l'indirizzo IP da dinamico a statico non è possibile ma v'è un'applicazione la quale vi concederà di creare una sorta di DNS al dinamico di Swisscom trasformerà il vostro indirizzo IP in un DNS basterà attivarlo e poi aggiungerlo niente, spero che questo video vi sia stato utile noi ci vediamo, ciao a tutti